Consolini siamo sempre più felici di fare questi video, spieghiamo brevemente Match privato soltanto con voi iscritti L'obiettivo di oggi è radere al suolo pinacoli pendenti Devono scomparire tutti i palazzi di pinacoli pendenti Non ci deve essere più nulla, radiamo solo tutta la città e a quel punto si potrà sparare E' una sfida davvero fantastica, è fantastico poter fare queste cose particolari e uniche al mondo insieme a voi Perché davvero al momento sono uniche al mondo, siamo gli unici a farle tutti insieme quindi è fantastico E adesso si parte, io sono gazatissimo Allora radere al suolo Fede, secondo me ci vorranno, dato che siamo 88 Eh non troppo Secondo me ci vorranno circa 5-6 minuti Eh io volevo dire una decina o poco meno Poco meno, secondo me poco meno Saremo molto veloci Dobbiamo stare attenti alla guerra Perché ci mireranno e ci spareranno tantissimo Ho paura Vedere però pinacoli senza costruzioni sarà strano E poi, e poi Steph, la guerra sarà sempre a pinacoli Senza posti dove ripararsi Esatto Eh, aspetta Ah, aspetta Ciao Ciao Che poi abbiamo il lion e youtube Troll, troll x lol L'ho ammazzato prima della quello che mi tirava E le granate ad impulso per allontanarmi Ad impulso Come abbiamo finito quel game delle kill record Tra virgolette L'ho visto che su Discord ha scritto Steph è stato bello lanciarti le granate impulso Scendi, 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 scendi Fortune è capitato con noi Che bello Allora, ok Ci siamo Quindi primo obiettivo molto semplice Radiamo solo la città Deve scomparire tutti i palazzi Tutte le costruzioni Deve scomparire tutto Secondo obiettivo Ammazzare tutti i player che ci sono Speriamo che venga rispettato Speriamo di trovare anche qualche arma Per quando finiremo di radere al suolo E divertiamoci Allora, Steph Ti stai girato in tondo? Ehm... Beh, Fere Marea di persone Beh, Fere, non mi stupisce Super marea Il discorso è che io non ho toccato ancora un'arma Non so te Ma, anch'io Anch'io Oh, cavolo, Fere Speravo che tu Oh, mamma mia che scatti Tu hai scattato? No Io ho tantissimo A un certo punto scendendo Mi è arrivato uno scatto incredibile Io ho trovato due trappole Ma le che vada mi rinchiude In una costruzione fatta da me Piena di trappole Ok, perfetto Questo è il mio piano, Steph Salve C'è un tipo che sta spaccando tutto Sto cercando delle armi Uh, shield Bene 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 C'era il consolino che parlava Ma non sono uscita a sentire Eh, al microfono un po' basso Anch'io l'ho capito male Perché in questo momento Poi sto spaccando Quindi sto facendo tantissimo rumore Capisci? Esattamente Allora Ho qualcosina Ma sono davvero, davvero, davvero povero E a me torna indietro il personaggio ogni tanto dagli scatti No, sarà che io mi sono spostata in una zona dove ci sono poche persone Sto demolendo qua Quindi evidentemente non mi sta prendendo troppo Sai che io per ora non sto demolendo e sto solo lutando Io non ho lutato un accidente Va bene, caso ti do io qualcosina Però Cinque bende Non vorrei morire dopo Ma ce l'ho nascosto qui dentro Ciao, che fai? Nascosto Oh cavolo Ahia In silenzio Non dovete picconare Ho capito che siete felici Però mi fate male Il piccone è fatano Che molti avranno anche l'arbeo Magari piccolano da una parte Ci va in mezzo No, no, no Mi ha proprio preso in pieno per salutarmi Ha fatto bene Ma che ha fatto bene Porca miseria Ok Allora Vado di sopra Io al momento ho tutto dranneche materiali Le mie armi fanno totalmente schifo Per una rissa Ho visto qualcuno che mi sa che ha sparato qualcun altro Oh mio Dio È già scomparsa metà città Piano Però non mi state vicini Perché se no Ma Fere ma che è? Non abbiamo metà città Ma come non abbiamo Ti giuro Fammi affacciare un secondo Se ti guardi un po' intorno Uè 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 Qui c'è una Aspetta Ok Magari mi trovo una bella arma Ok Più o meno Bella per modo di dire Allora 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 Questo palazzo è praticamente andato Oh mio Dio Oh mio Dio Che spettacolo Che è sta roba Ma quello è un trampolino? Lo voglio Perché l'altro Sto iniziando il Stef La lagga surda Vedo cose che spariscono E che ricompaiono Aspetta che sento qualcuno Che sta sparando Non so se magari sta sparando in aria Se sta sparando qualcuno Molti sparano in aria Comunque abbiamo pochissimo tempo Consolini So che non mi sentite Ma abbiamo poco tempo Perché la zona ci chiuderà fuori Però Cioè Non c'è più la città Non c'è più È già finita Ma guarda Sto palazzo sta finendo Questo Adesso stanno distruggendo Le ultime fondamentazioni Ti consiglio di non essere al centro Di tutto Io inizio a Mi sposto Zitta Zitta Già Allora Ma c'è la Sassuolo Noi abbiamo detto una decina di minuti Ma ci hanno messo due minuti Stef Già Cioè ma com'è possibile Guardate Cioè la riconoscete Riconoscete la città Perché io non la riconosco al momento Io non riesco a riconoscere I pinnacoli pendenti Stef È il momento mi sa Vero? Sì Allora aspetta Io aspetto che qualcuno apra il fuoco Non voglio essere la prima Credo che nessuno Voglia aprire il fuoco al momento Mi stanno seguendo una decina di persone Se io apro il fuoco Mi deletano Ah sì vedo Non rimangono neanche i miei capelli Ecco Mi sa che stanno iniziando Stef C'è qualcuno che sta cercando di spaccare Il furgone del gelataio Ok Che effettivamente È un po' Un'altra costruzione Da considerare Ma quanto vive scusami? A 100.000 Ho 10.000 di vita Ma così tanto Sì 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 È fatta apposta per ridere Cercare di romperlo Allora andiamo scusa Ho paura che poi ci sparano Io vado Pazienza se mi sparano Tanto registri tu Quindi se voglio Obiettivo rompere il gelato Lo sto vendo anche io Mi hanno iniziato Stefano Hanno ragione Le abbiamo detto noi Le abbiamo detto noi Giusto E giusto E giusto Però aspetta Io mi ci metto Vado in un angolino qua Chi era che sparava? Siamo tipo a 36.000 Ma quanta vita Ma lo deve essere tutta, Pinnacoli No, spostate, vi vi do colpito Hanno fatto a creare un ponte enorme Oh mio Dio 23.000 Davvero? Arrivo, 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 arrivo Ce la fate? Ce la fate? Qualcuno mi ha fatto volare con la granata in pulso Dai, finiamo 10.000, 9.000, 8.000 Vai a fare 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ce la fanno Fatto E adesso? Si spara? A rapica? Mi sono messa in mezzo a sparare tutti quelli vicino Lug Penso di morire Aiuto Ho finito già i materiali No, no Vi prego, non mi ammazzate Sono un piccolo Steph Mi hai ne ho buttato Sono un piccolo Steph C'è il delirio Questo non mi ha visto? Bravi Ciao Bravi Io avevo solo un vampa a fucile, Steph Io sono scappato Mi sono allontanato dopo poco E qui dico il pompa alla fine mi hanno fulminato Però qualcuno l'ho ucciso L'ho buttato giù Che ridere Che ridere Allora devo stare nascosto Altro obiettivo conquistato dai consolini Oh yes Pinnacoli completamente scomparso Ma adesso Steph è in mezzo alla rissa Quindi per ora vorrei sopravvivere Con tanto di furbone da quanto? Quanto era? 100.000 di vita? 100.000 di vita Cioè finita Era un doppio obiettivo infatti quello Allora vediamo un attimino Riesco a mettere Un bruttissimo ponte Facciamo così Perfetto Li senti sparare? Sì 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 Guarda 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 Pinnacoli irriconoscibile Non l'avevo ancora vista qui dall'alto È davvero irriconoscibile Bellissimo È davvero impressionante Ah gli ho tolto solo 30 Devo ripararmi Steph deve giocarla sulla tattica Sì tu sì Vincerla è quasi impossibile E io dai non avevo buone armi e tutto No hai fatto bene Hai fatto bene Almeno avete distrutto il gelataio Cosa ha detto? Ah penso alla richiesta di amicizia Che poi nel caso cerco di giocarla Nel caso li accettiamo Ok ragazzi ne abbiamo tante Quindi è difficile trovarvi in mezzo Alla richiesta Ne abbiamo tipo più di 2000 Sì l'ho ucciso Ok 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 un altro Sì vedo vedo Perfetto Che paura Adesso vengono a cercarti Steph Vogliono la tua testa qui Quello si è buttato È impossibile a sparare Che poi ormai stanno circondando i monti Quindi fra un po' qualcuno mi potrebbe prendere Tutto alle spalle Ah però 120 mazze Perfetto Però sei molto fuori Steph Non so se vuoi rientrare dentro la zona O qualcosa del genere Ok fan al chilato Ok Quella ha l'RPG? Stati sì Hai fatti Uh è rischiato Potrebbe essere un problema Potrebbe essere un bel problema Eh sì Eh sì Eh sì 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 Ok Ok Potresti Bravo Che faccio vado? Sì Boh Sì Cioè bisogna restare a pinnacoli anche Nonostante la zona Nonostante la tempesta Ok Aspetta No più che altro mi interessa l'RPG Cavolo la zona è vero È quello che ti volevo dire Steph E tu continui a parlare dell'RPG 30 vivi No credo che posso andarmene Beh sì in effetti Non l'abbiamo scritto eh Non l'abbiamo scritto No non l'abbiamo specificato Questo è vero eh Quindi Ok Eccolo Perfetto Mi serve qualcuno che ha delle cure Ci sono delle cure? Steph mi aggiungi Ok Ok vai Sì sì dopo ti aggiungo Ok Mi stava distraendo Ah Cura 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 non c'è nulla Prendo shield Prendo anche il treband Ok Ok C'è una bella scorpacciata di loot Comunque eh Assolutamente sì C'è una bella scorpacciata Potete di muovere Steph Di loot Sì 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 tranquilla Ok che non sei lontano Ma non sei neanche attaccato alla tempesta Quindi muoviti Sto andando Sto andando 25 vivi E ho al momento 6 kill E adesso secondo me Tutti se ne sono andati in giro eh Può essere Guarda lì sopra c'è gente Sì Fai attenzione Ah cavolo Sono full mazzo Stare bello Sto rimanendo fuori dalla zona Per non farmi vedere Perché mi noto meno E adesso Piano piano No Ecco 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 Porca Vai via Vai via Cambia zona Adesso vedono il mio dragone E mi riconoscono tutti Capita di nulla Di fronte a te Steph Lo so Sono ovunque Lo so E giustamente si sono spostati all'ultimo Quindi è ovvio che li trovi tutti in queste zone Lo so Ok Bravo 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 Ah Ok Ok allora devo sistemarmi Questo è così Perfetto Mi tiro gli scillini Che sono un attimo più veloci Dai Che se sopravvivo a questo momento Ho aprito il naso La parte peggiore è finita A parte che io sono da solo in team E ci sarà qualcuno ovviamente In un team più grande del mio Ok Ah beh siamo tutti morti in effetti Sì 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 Ok Quello che era qui È scomparso Eh mi sa che si è spostato Vero Ah E lì secondo te c'era ancora Perché li avevo visti i billare Eh Sì guarda è anche morto qualcuno Lo so Però non so se ce ne sono ancora dentro Non so La nuova zona è lontanissima Mi sa che mi tocca andare Vai Ok Poi come va va È dato 20 vivi Bellissimo anche questo game È andato tutto perfetto Cioè distruggere hanno distrutto Combattere hanno combattuto Bellissimo Davvero una sfida epica Anche questa Sono troppo felice di fare questi game Sono davvero divertenti Però adesso ho un po' di paura Molto scenografici oltretutto Molto strani 19 vivi Se qualcuno mi vede mi spara anche Sono lontanissima Nella zona Quindi sto sperando che in questo momento Nessuno Shhh Ma il silenzio Non farti sentire Non ti ha visto Si sta guardando intorno eh Prima o poi Eh esatto Adesso si gira Forse ero dietro la roccia Mi ha visto Poi sa come muoversi Quindi fai attenzione Sì 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 L'ho già notato Quella skin è poi maledetta eh Porta un sacco di kill Non mi vuoi che ti uccide Fu È come il cavaliere nero Sì 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 Ah non lo sapevo Mi sa che Yes Sa come si gioca Vado in rush Certo sa come si gioca Vado in rush Ok Ok Penso che sia nella casuppola no 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 Aiuto Già A essere giocata bene Già Se non avessi avuto i lanciarazzi Secondo me ti avrebbe ucciso Già Ma io sono anche distratto dal fatto che la zona è vicinissima Eh lo so Steph sento passi Steph sento passi Ci sta Non poteva non arrivare proprio qui Cavolo Eri anche molto lontano Eri anche molto lontano Sì però A livello di velocità ero abbastanza veloce Quindi teoricamente rimaneva al passo con la zona Però cavolo Peccato peccato Comunque complimenti a Falcuita che mi ha ammazzato Ve la siete giocata bene Bravo Temo che moriranno di zona poverini Eh può essere Non so se hanno cure Perché uno l'ha arrestato Aveva 30 di vita Quindi se non ha cure è morto Lui ha preso le mie bende Quindi se le potrebbe tirare prima di morire Però cavolo Non so se ce la può fare Ok Vediamo Eh adesso tica doppio Mi sa Eh tosta È tosta Peccato peccato Mi sa che muore anche lui Peccato Che probabilmente era la fine che avrei fatto anche io Non lo so Non lo so Eh comunque è sempre brutto morire di zona È la cosa che fa a rosicare di più Mi dispiace per loro lo stesso Però nel caso avranno un bello screenshot della mia kill Quindi almeno ne basta la pena Almeno se lo devono tipo stampare in camera Prendere sopra il letto Capito No non ce la fa? Davvero? Davvero? Peccato Corri Come si chiamava quello che ho ammazzato di RPG Che era super bravo? Te lo ricordi? Ah l'ho anche letto ma non me lo ricordo Perché io non l'ho letto nella foga del combattimento Non l'ho letto Però sai ora Non me lo ricordo Vabbè tanto Perché era molto bravo Quindi volevo fare i complimenti Perché se l'è bullata davvero davvero bene Vabbè tanto lo sa che è per lui Non mi aspettavo che avrebbe fatto Come vedrà questo video lo sa che è per lui Sì 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 O lei alla fine non lo sappiamo Alla fine saprà risulto 12 di vita Però ancora bende Sto fatta No ha applaudito Perché mi sa che lo sto guardando Bravo Beh lo sono guardando in sette quindi 10 vivi Vediamo se se la porta a casa la persona che mi ha ammazzato Ormai faccio il tifo per lui È giusto così Io purtroppo Ne posso vedere altri o no? No 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 Te ne fa vedere una casola Allora sto guardando sto Niko Pro Niko 48 Pro Che sta uccidendo chiunque C'è qui C'è chiedendo gente Sì 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 Ok Allora Falco Itani ha buttato giù un altro Falco mi sa che ti sto portando sfiga anche io Falco Ah adesso sto vedendo anch'io Falco Ottimo No apriti Falco Vai Falco ce la puoi fare È bravo Dopo aver ucciso Steph È circondato È circondato Però è bravo Sta buildando veramente veloce Guarda come ha buildato È veloce Cravolo Falco credo che ti stiano arrivando addosso Falco credo che ti stiano arrivando addosso Non è una buona notizia Dove sono? Uno è lì? Ma ne ha intorno ovunque Eh certo Sono tutti ammassati in questa zona Beh guarda Se ha i miei mazzi può farsi anche una fortezza eh Perché avevo 999 di tutto Ok stiamo a vedere Non ha trovato cure poverino Gli è andata sfiga su quello Vediamo 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 Ne ha uno qua di fronte Uno là E va bene Ma quelli che lo sparano intorno Non si capisce proprio Quelli che sono in quella zona Non si capisce dove sono Eh sì Credo nascosti in mezzo agli alberi Uh No no Ok 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 Bene l'hanno ammazzato Eh ma perché ha avuto una sfortuna incredibile nel non trovare cure È stato qua Questo oggetto ha raids Raids Non so dire il suo nome eh C'ha 8 kill Ha fatto un bello striminio E vincono loro E vincono loro Ci sta Ci sta Congratulazioni Grazie mille Perché ce l'abbiamo fatta Anche con i pinnacoli pendenti Rasi al suolo E adesso andiamo avanti Con la nostra maratona Di tentativi folli